5 attori turchi che hanno avuto la possibilità di raggiungere la popolarità di keny aman tutti ora sanno che keny aman è uno dei nomi più noti in turchia all'estero keny aman che ha fan in tutto il mondo è sempre all'ordine del giorno soprattutto in italia keny aman che ha recitato nella serie tv italiana sandokan segue da vicino la stampa scandalistica l'attore turco spesso oggetto di cronaca con il suo amore per diletta leotta e all'apice della sua popolarità ci sono anche giocatori turchi che hanno la possibilità di diventare un marchio all'estero come keny aman che ha milioni di fan naturalmente affinché questi attori possano creare i propri marchi è imperativo che prestino particolare attenzione ai loro fan all'estero e si incontrino frequentemente con loro perché keny aman ha cresciuto ancora di più la sua fama rispondendo all'attenzione dei suoi fan chi sono gli attori maschi che interpretano i ruoli principali nelle serie tv turche e definiscono l'agenda nei social media burak denis è al primo posto l'attore che è sullo schermo con la serie maras lee e allo stesso tempo bello talentuoso e carismatico anche se non quanto keny aman la base di fan di burak denis noto anche all'estero è in rapida crescita un altro nome è kagliar ertugrul l'attore che fa una forte impressione con le sue scene ricche di azione nella serie intitolata tetesky lat è sia talentuoso che carismatico il futuro del kagliar ertugrul a cui giovani mostrano di grande interesse e anche molto luminoso berker guven brillante con la serie chiamata alev alev è diventato uno degli attori più chiacchierati degli ultimi giorni berker guven che è seguito da vicino da milioni di persone sui social media si è dimostrato avendo progetti di successo uno dopo l'altro un altro attore degno di nota è al peren duimaz l'attore che interpreta il ruolo principale nella serie chiamata sony as è ammirato da giovani di talento carismatici e giovani riflettendo la sua differenza con il suo stile al peren duimaz espande anche la base di fan anche il recente partner di demet osdemir engin oschurk è stato uno dei nomi la cui popolarità è aumentata engin oschurk è venuto alla ribalta soprattutto con la serie dog giuganev kaderindi l'attore ha anche una vasta base di fan e ha iniziato a essere riconosciuto all'estero burak denis kagliar ertugrul berker guven al peren duimaz ed engin oschurk sono diventati nomi di spicco con i loro ruoli tutti loro sono talentuosi e belli dopo l'enorme reputazione di kenny aman all'estero questi cinque attori turchi stanno rapidamente aumentando la loro base di fan poiché le serie tv turche vengono trasmesse in diversi paesi gli attori turchi vengono rapidamente riconosciuti e stanno aumentando la loro base di fan all'estero non sorprenderti se questi cinque attori turchi aumenteranno presto la loro popolarità all'estero come kenny aman ciao 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 ciao